Una dichiarazione scioccante quella di Giacomo Urtis che scosso l'opinione pubblica. Guardate il video fino alla fine per sapere i dettagli. Il famoso chirurgo estetico delle celebrità, Giacomo Urtis, sembra aver trovato l'amore e ora sogna di formare una famiglia entro l'anno a venire. Durante il suo compleanno lo scorso settembre, aveva lasciato intendere di avere un corteggiatore, e sembra che l'uomo misterioso sia riuscito a conquistare il cuore di Urtis. In un'intervista il chirurgo ha rivelato, sono fidanzato da circa due mesi. Sebbene Urtis mantenga segreta l'identità del suo compagno, ha condiviso alcuni dettagli sulla loro storia d'amore, ero convinto di essere single per tutta la vita. Ma da circa due mesi qualcuno è riuscito a conquistarmi. La nostra relazione è nata gradualmente, e alla fine mi sono fidanzato. Come si suol dire, se son rose fioriranno. Al momento non c'è ancora un anello, ma Urtis ha sottolineato che le intenzioni sono serie, magari me lo regalerà a Natale, anche se personalmente non attribuisco grande importanza agli anelli. Ciò che conta veramente è il modo in cui una persona dimostra affetto e amore. Spero di sposarmi, magari sarà lui a fare la proposta. A parte il vincolo legale, Urtis ha chiare idee sulla famiglia che desidera costruire, sicuramente vorrei avere due figli. Pianifico di mettere in cantiere almeno un figlio dall'inizio dell'anno prossimo. Ne abbiamo già discusso, e lui è entusiasta all'idea che io diventi la mamma dei suoi figli. Cosa pensate di Giacomo Urtis? Sono dichiarazioni forti? Fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Arrivederci!